Gli asili nido comunali riapriranno regolarmente lunedì e i giorni di disservizio saranno decurtati dalle rette pagate dai genitori. E l'esito positivo della riunione convocata ieri dal prefetto di Catania Claudio San Martino per sbloccare l'avvertenza delle ausiliarie degli asili nido che aspettano ancora diverse mensilità dello stipendio. Nel corso dell'incontro, a cui hanno preso parte anche il sindaco di Catania Salvo Pogliese e l'assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombardo, oltre alle rappresentanze sindacali e delle cooperative, l'amministrazione comunale ha assunto l'impegno di liquidare immediatamente la mensilità di gennaio e addirittura di anticipare quella di febbraio sfruttando una norma di legge che autorizza questa possibilità. Abbiamo vissuto come un peso una situazione che non è di pesa da noi e che finalmente si è sbloccata, ha detto il primo cittadino. Ringrazio il prefetto, le organizzazioni sindacali e soprattutto le lavoratrici che hanno atteso pazientemente il saldo delle spettanze. Ricordo che da settembre ad oggi l'amministrazione che presiedo, ha detto Pogliese, ha liquidato ben sette mensilità arretrate, nonostante il dissesto che abbiamo trovato al nostro insediamento recuperando parte dell'enorme ritardo accumulato nei mesi precedenti. Da oggi gli addetti della Catania Multiservizi effettueranno le pulizie negli asili nido rimasti chiusi per due settimane e dal lunedì si ricomincerà. Siamo orgogliosi dei nostri asili nido che consideriamo un fiore all'occhiello dei nostri servizi sociali, ha detto l'assessore Giuseppe Lombardo, che ha ricordato con soddisfazione l'aumento degli iscritti agli asili nido comunali e la rimodulazione con la quale l'amministrazione ha migliorato efficienza e realizzato risparmi senza toccare le rette. Il progresso debitorio fino al 2018 sarà adesso gestito dall'organismo straordinario di liquidazione, ma già dalle prossime settimane, annuncia l'assessore, riprenderemo con vigore una programmazione aggiornata per dare un servizio sempre migliore ai bambini e ai genitori.